Voltare a sinistra. Preparare. Voltare a sinistra. 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 Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Voltare a sinistra. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla rotatoria prendere la terza uscita. Uscire adesso. Grazie a tutti. Tenerse a sinistra. Tenerse a sinistra. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tenersi a tutti. 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 Alla rotatoria prendere la seconda uscita Uscire adesso Alla rotatoria Uscire adesso Alla rotatoria prendere la terza uscita Uscire adesso Alla rotatoria prendere la prima uscita Uscire adesso Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Abbiamo finito Abbiamo finito Grazie a tutti.